Siamo nello stand TAO con il designer di punta appunto di questa azienda Setsu Ito. Quali progetti hai presentato quest'anno? Dunque per TAO abbiamo presentato questa serie di mobili in esterno si chiama Sura, in realtà questo presentato l'anno scorso con evento di Ponkorian che dove ci siamo conosciuti lì, abbiamo fatto un accoppiamento con questo TAO, azienda nuova per dire settore di outdoor, di furniture, loro sono bravi, storici per tende, tessiture, però questi settori che loro sono nuovi, infatti per fortuna che noi stiamo cominciando a collaborare da quasi inizio di questa azienda di crescita. Abbiamo progettato anche di nuovo con evento di Ponkorian di una C-strong che è fatta da tre colori nuovi di Ponkorian che è con forma molto organica. E come nasce un suo progetto? Dall'idea alla progettazione che cosa avviene? Dunque abbiamo a parte sempre idea di qualcosa, infatti io ogni tanto, ogni spesso, adesso un po' meno comunque, che schizzo anche senza significato, senso che magari viene con questa linea con questa linea con qualcosa così. A parte di questo, sempre abbiamo briefing da azienda con l'esigenza di sviluppare un prodotto con questa tecnica, questo materiale, possibilmente eccetera eccetera. Allora con queste, se c'è più limite, limite che per noi diventa più facile a pensarci. E con questo briefing che facciamo di nuovo, che schizzi e poi magari questi archivio di schizzi che c'erano anche nella testa comunque e si mette insieme due cose e si nasce qualche prova. Lei progetta per tantissime altre aziende. Quando progetta per Tau, quali sono le linee guida che deve seguire nei suoi prodotti? Dunque, loro hanno come partenza da tende e tessiture, che loro hanno questo sistema di arminio profilo che possono essere l'uolo di tende eccetera, che hanno lavorazione di arminio molto bravi. Infatti abbiamo un po' mente di questo, che è combinazione tra, per esempio, di Dupont Corian con questi materiali metallici, però anche devo dire che loro ci hanno, fino ora hanno presentato queste linee molto diritte, rigida, di linea, molto minimale devo dire, però stessa volta secondo me hanno bisogno un po' di linea sinuosa, morbida insomma, quindi stiamo cercando questa linea da creare.